Porti chiusi a mezzogiorno di oggi, quando è scaduto il termine per presentare le liste in vista delle prossime elezioni amministrative anche a Pescara, nessuna sorpresa si parlava di una possibile candidatura di Casa Pound, Italexit, il Movimento di Paragone. Ma evidentemente le firme non sono state sufficienti e oggi a Palazzo di Città sono state presentate 14 liste per 4 candidati e 450 papabili consiglieri in corsa, le verifiche di rito e poi l'ufficialità. Ma veniamo a candidati e liste. La coalizione di Carlo Masci, sindaco sciente, candidato per il centro-destra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Pescara Futura, Masci, sindaco per Pescara, Udc. Coalizione di Carlo Costantini, candidato centro-sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Radici in Comune, Carlo Costantini, sindaco di Pescara, Faremo Grande Pescara. Coalizione civica di Domenico Pettinari, sostenuta da Pettinari, sindaco, Cittadini per Pescara, coalizione civica Gianluca Fusilli, Fusilli sindaco, Stati Uniti d'Europa. I seggi con 103.000 pescaresi chiamati alle urne saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per liste, nomi e ulteriori particolari si può consultare il nostro sito internet www.reteotto.it